Qui Noi oggi nascemo! Dai si può fare meglio! Ab-e-e-b-e! A-u-b-e! Ora più forte ancora! Dovete venire fuori la forte! Dai ci siamo, più forte! Ovunque voi giocate, noi ci siamo, la gente si lo manda, ma chi sono? E noi all'onimo dicevamo, la gente si va a decidere, noi ci siamo, la gente si va a decidereling, e noi ci siamo, la gente si vale, ma chi你是? Tutta la scuadra Tutta la scuadra Su le mani Vi vogliamo fuori con noi 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 Conquistala per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. Per noi, per noi, per noi, per noi, per noi. e questo vale un po' il discorso che abbiamo fatto dei gruppi organizzati, cioè cosa significa? Significa che la proprietà è vicina alla società, la proprietà dà il massimo supporto, la proprietà alle idee chiare, la proprietà a passione, sembra scontato ma non è così da tutte le parti. Io credo che John Elkan davvero sia salendo al potere anche in termini di passione perché questa è la sua Juventus, non è questo il video adatto ma tra la scelta di Giuntoli, poi determinate altre letture, l'arrivo di Tiago Motta, questa è la Juventus di John Elkan e quindi essendo John Elkan il primo tifoso della Juve è ovvio che auspica che possano arrivare determinati risultati perché significherebbe anche celebrare di riflesso il suo modus operandi. e le sue scelte. Una Juve che anche oggi lavorerà intensamente non nelle ore più calde perché mi spiace per i tifosi che oggi erano la continassa, per i calciatori, per Tiago, il suo staff e per tutta la Juve intesa quella impegnata nelle attività di campo perché fino a qualche giorno fa sembrava che qui fosse pieno autunno invece è esploso il caldo come è normale che sia l'11 di luglio e quindi fa davvero tanto caldo e non si può. ovviamente allenarsi nel primo pomeriggio, ieri la Juventus credo che abbia iniziato a scendere in campo attorno alle 17.30 e quindi anche nella seduta pomeridiana si andrà immagino verso quella direzione. si lavora tanto a livello di tecnica, si lavora tanto a livello di campo, si lavora tanto anche a livello di mercato perché sì, Giuntoli è alla continassa ma poi è molto abile il manager toscano a spostarsi qua e là con grande rapidità senza dare punti di riferimento, da abile depistatore qual è. si parla moltissimo in questione di Todibo che adesso è un giocatore però molto costoso ma la Juventus sfumato Calafiori deve inserire un profilo e vedremo con quali caratteristiche perché inizialmente l'idea era quella di prendere un centrale mancino e infatti Calafiori rappresentava l'obiettivo primario. poi Calafiori va, vede in procinto di andare all'Arsenal per 50 milioni, 4 milioni nette a stagione a lui e quindi qualsiasi sogno di gloria svanisce e bisogna prendere contatto con la realtà e con anche la stabilità finanziaria da ricercare cercando di coniugare nei migliori modi con la competitività. vi ricordo che ieri tra l'altro abbiamo visto Enrico Zambruno protagonista da noi sul Bianconero nella live che abbiamo fatto, sapete perfettamente che stiamo lavorando all'insegna della qualità per cercare di portare sul Bianconero persone che abbiano avuto anche un passato importante perché ci possono raccontare come hanno vissuto in prima persona da dentro la Juventus e noi è roba per tutti e oggi alle 17, vi lascio come sempre qua sotto nel primo commento il link, abbiamo il tacco Alessio Tacchinardi che fa suo esordio appunto alle 17 sul Bianconero, sul canale YouTube del Bianconero e il nostro nuovo talent, sono sicuro che oggi Alessio saprà rendersi originale come sempre, grandissimo Juventino, avete visto il saluto che vi ha fatto nei giorni scorsi, dicevano dai andiamo a vincere lo scudetto, ecco avrei visto benissimo oggi Alessio proprio alla continasta circondato da questo entusiasmo, lui che era e resta e resta per sempre uno dei calciatori più amati della storia juventina perché mi accorgo anche dai vostri commenti come in tanti abbiate apprezzato il fatto che il Bianconero abbia fatto questo sforzo per prendere Alessio e noi siamo estremamente felici che lo stesso Alessio abbia deciso di accostare il suo nome al nostro brand, quindi sul Bianconero si fanno le cose serie e lo potete vedere da come stiamo coprendo dire quasi H24 questo precampionato della Juventus e quindi vi invito a iscrivervi al mio canale, attivare la campagna di notifica, lasciare un bel like, a seguire il Bianconero, a seguire alle 17 in punto la nostra live, ci sarà ovviamente il nostro host ufficiale Colpo Gobbo che è carichissimo, sta lì poi monta clip, i giochini bellissimi, abbiamo messo anche dei contenuti che abbiamo fatto con Enrico e il suo gol preferito della storia da Juventus, andate a vedere un po' l'attività anche social che stiamo facendo sul Bianconero, abbiamo il nostro grande, grande, grande Cristiano Corbo inviato alla Continassa, dopo che questa mattina alla Continassa, avete visto le immagini, c'era un altro nostro inviato, Marco Amato, più di così, non possiamo fare. Pioggia di commenti e fatemi sapere cosa ne pensate di questo grandissimo entusiasmo e del saluto di Tiago Motta, siamo aggiuntoli a gruppi organizzati. Grazie.